Oggi vedo una bella partecipazione, di questo veramente ringrazio tutti. Vi faccio i migliori auguri di Buon Natale a voi tutti e alle vostre famiglie. Grazie, colgo anche l'occasione per distribuire i calendari. Anche quest'anno abbiamo fatto, come sempre, grazie veramente alla capacità operativa del nostro proprio squadra Ghiandolo e della collaborazione di tutti i personale, abbiamo fatto anche quest'anno il calendario dei Vigili al Fuoco. 2019 con l'attività del 2018, l'anno nuovo noi lo facciamo mettendo in evidenza quello che abbiamo fatto. Quindi l'abbiamo chiamato il colore del fuoco perché abbiamo inteso proprio mettere in prima immagine tutti gli interventi che hanno caratterizzato soprattutto gli incendi e quindi gli interventi che per noi, diciamo, sono stati dal punto di vista operativo un po' più impegnati rispetto agli altri, anche perché in molti di questi interventi sono stati coinvolti direttamente le persone. Quindi colgo l'occasione per distribuire adesso al personale questo calendario e davvero con i migliori auguri per tutti. Ovviamente mi correrò obbligo di darlo al nostro padre spirituale, padre Francesco, lei mi mancherà se mi volesse dire, nei prossimi percorsi della mia vita lavorativa mi farebbe davvero piacere. Grazie. Grazie.